Il conto alla rovescia è ormai iniziato perché manca pochissimo alla nuova diretta del Grande Fratello Vip, ma succedono sempre cose. In continuazione, anche se manca poco, manca uno sgoccioletto alla nuova puntata e qui si scatena già la rabbia dei fan contro i concorrenti. Diciamo che a far traboccare il vaso con la fatidica ultima goccia è stata una festa organizzata durante la serata di sabato. Allora, un utente sulla pagina social del programma, proprio quella ufficiale, dice «Questo cast fa acqua da tutte le parti». Fin qui, vabbè, insomma è un detto che viene detto, già l'abbiamo sentita questa cosa. Però ha aggiunto «Se ne devono andare, Alfonso ti prego, devi prendere provvedimenti perché mai il programma era caduto così in basso». E allora questo invece già potrebbe far riflettere. Nel frattempo le critiche sono cadute su Antonino Spinalbese dopo il faccia a faccia che c'è stato con accuse, tra l'altro, ad Edoardo Donna Maria, accuse che il pubblico non ha molto gradito. Antonino? Anche meno, eh? Cattiveria immotivata verso Edoardo. Se non capiscono la diligenza del buon padre di famiglia, che vuol dire è il caso che inizino a leggere di più e a sparare meno cavolate. Solo che c'è anche chi lo difende, attenzione, poi qui sapete che si formano due schiere. Dall'altro lato gli fanno «Antonino, sei una grande persona», Edoardo che prima gli sta insieme, ridono insieme, scherzano insieme, poi che fa? Lo nomina dicendo che è il meno vero. Edoardo è un gran paragnosta. E poi va ad Alfonso dicendo che Antonino gli rivolge la parola. Eh, e grazie al caso, sei un falso di me, capito? Insomma, vabbè, utenti molto arrabbiati, ovviamente. Parole dure, ma intanto sembra certo l'ingresso di sei nuovi concorrenti. E ho detto tutto. Pare che tra i nomi confermati, cioè tra i nomi certi, ci sia quello di Luca Onestini, che l'abbiamo già visto, no? Nel Grande Fratello. E sì, addirittura, primo nella lista. Ripescato, sì, se così si può dire, da un'altra edizione, cioè quella del Grande Fratello, edizione numero due. E ancora Oriana Marzoli, protagonista indiscussa di un acceso confronto con Valeria Marini nello studio di Supervivientes. E poi i riflettori accesi anche su Edoardo Tavassi. E poi, mica è finita, c'è Sara Altobello, la sosa di Melania Trump. Anche lei, reduce dall'isola dei famosi, è volto nel salottino televisivo di Barbara D'Urso. E in ultimo, Raffaello Mazzoni, ex secchione della Pupa Il Secchione e viceversa. Un'operazione di pulizia che non è da poco, signori. Io avevo parlato già a tempo addietro di ricambio generazionale. Ma qui addirittura sei concorrenti tutti insieme. Secondo me entreranno abbastanza scaioni, anche per tenere l'audience abbastanza alto. E sì, a parte tutto questo, l'esito finale della serata è stato a dir poco disastroso. Perché infatti i concorrenti non si sono tanto divertiti per quanto riguarda la festa. E non hanno divertito il pubblico del reality show. In pochi hanno ballato e si sono scatenati nel corso della serata. Al punto che la stessa Antonella Fiordelisi, ritrovatosi così a ballare da sola in giardino, cosa tristissima, si è lamentata su quanto fossero noiosi e poco attivi i suoi compagni di avventura. E questo è tutto, almeno per ora, signori. Ma ben presto avremo nuove novità perché ci sarà proprio la diretta del GF VIP. Ci sentiremo domani con tante, tante, tante altre novità. Per quanto vi riguarda per ora è tutto. Un salutone da Max e buona serata a tutti. Grazie. Grazie a tutti.